Ciao a tutti, ciao Riccardo, grazie. Vado a condividere lo schermo. Dovrebbe essere visibile, immagino. Tanto vi ringrazio anch'io per esservi collegati adesso a questi momenti che passeremo insieme. La sessione, diciamo, di cosa parleremo oggi? Parleremo appunto di come, un po' dell'intersezione tra quello che è il mondo delle power apps e lo sviluppo tradizionale, lo sviluppo custom. Quello da cui un po' tutti, diciamo, proveniamo, comunque siamo abituati magari a lavorare all'interno delle nostre aziende da tempo. In breve, due parole su di me per non togliere troppo tempo alla sessione. Appunto i lavori in Avanad come Cloud Solution Architects sono un MVP nella categoria Developer Technologies, quindi diciamo anche un po' fuori da quello che può essere, come dire, il mondo tradizionale, magari dall'expertise che anche, per esempio, Fabio e Emanuele, che era prima di me, diciamo, condividono. E appunto mi occupo anche in Avanad di quelle architetture, comunque modelli di sviluppo e soluzioni innovative che spesso riguardano il mondo del cloud e le tecnologie di pratiche di sviluppo, diciamo, moderne. Perché dico questo? Perché appunto voglio mettere dentro appunto il fatto che Avanad è sempre la ricerca di nuovi talenti, queste sono grandi opportunità per cercare nuove persone che sono appassionate, vogliono provare a unirsi alla nostra squadra per lavorare, fare, diciamo, cose davvero, davvero interessanti e innovative con le tecnologie Microsoft, quindi quello è il sito. Io vi invito a cercare, a guardare se c'è una posizione aperta che vi interessa, non cerchiamo qualsiasi tipo di seniority e veramente ce n'è per tutti. Ma detto questo partiamo, partiamo perché, come dicevo prima, questa sessione è un po' l'intersezione tra il mondo custom e il mondo, diciamo, un po' meno tradizionale delle power apps, però di fatto noi tutti, noi ci possiamo tutti definire degli enterprise di vero per chi lavora, diciamo, sia per aziende piccole, medie, grandi, indipendente dalle dipendizioni dell'azienda, si trova comunque a affrontare tutta una serie di challenge che ovviamente ci richiedono sempre di più di stare al passo con le tecnologie, di trovare modi sempre più veloci e sempre più innovativi per soddisfare le esigenze appunto dei nostri stakeholder. Quindi ci ritroviamo a sviluppare, ci viene richiesto di sviluppare servizi resilienti, scalabili, adottare magari modelli architetturali che ne sono basati su microservizi o comunque cercare di produrre sistemi e applicativi che, diciamo, interagiscono con l'esterno nel miglior modo possibile. Ovviamente questo si sposa e si scontra anche in un certo modo con tutte quelle che sono, che è l'andare del tempo, no? Quindi l'idea che esiste un poliglottismo sempre più crescente da un punto di vista di tecnologie e di linguaggi che, diciamo, sono disponibili, quindi ormai è all'ordine del giorno non utilizzare un unico linguaggio prodotto allo stack, ma cercare quantomeno di diversificare per avere, diciamo, per trarre i benefici delle funzionalità peculiari di particolari linguaggi, utilizzare quello che è il codice esistente per evitare di buttare ogni volta e rifare tutto da capo quelli che possono essere magari anni e anni di investimenti, di effort, di duro lavoro, diciamo, di nottate in alcuni casi. E allo stesso modo trovare il modo in tutto questo, come se non bastasse, come se fosse veramente poco, di sfruttare anche quelli che sono i nuovi programmi model che emergono, quindi l'idea del concetto di function, di workflow, di attori, sono tutti meccanismi molto molto potenti che ci danno sempre qualcosa in più all'interno della nostra toolbox da sviluppatori e che, diciamo, cerchiamo, quantomeno ci proviamo, di utilizzare, diciamo, nella nostra quotidianità, ok? Quindi questo è una sorta di, è la situazione dove tutti ci ritroviamo e che di conseguenza, quindi tutti i drawback di queste situazioni, di questi problemi, di queste sfide che ci portiamo, che dobbiamo affrontare giorno per giorno, stanno portando comunque a un rallentamento di quello che è lo sviluppo, diciamo, in ottica, diciamo, modern development, no? Quindi dell'adozione di tutte quelle funzionalità più fighe, uber cool, che possiamo ipotizzare e vediamo sul mercato, magari raccontate anche in conferenze come questa, in virtual conference come questa, perché appunto l'idea è che dobbiamo, magari non possiamo sempre adottare approcci di tipo Big Bang in quello che è il nostro codice, ma dobbiamo portarci dietro codice esistente e migrarlo, diciamo, gradualmente. Programmi model diversi, runtime, magari sono veramente specifici per certi tipi di workload e sono, ed è difficile, come dire, estenderli, migrarli, farli coesistere con ciò che è magari più nuovo. Ovviamente anche la differenziazione di quelle che possono essere poi le infrastrutture sottostanti a dove i nostri workload girano ormai si sta complicando con i modelli appunto on cloud, che ormai c'è già da molto tempo, poi i modelli on the edge e, diciamo, anche tutto quello che possono essere gli scenari anche ibridi e on premise, sostanzialmente. Quindi questo è, detta da queste due slide, siamo veramente messi male, sostanzialmente, perché non facciamo altro che scontrarci, diciamo, con problemi e con, diciamo, un progresso che rischia di, come dire, sopraffarci senza che neanche ce ne accorgiamo. E tutto questo, ovviamente, però, fortunatamente qualcuno si è svegliato e sono iniziati a, diciamo, a entrare in gioco tutti quei, quel mindset, diciamo, del cloud native che ha permesso e che ha l'obiettivo di dare questo potere alle organizzazioni di sviluppare, operare e distribuire, diciamo, degli applicativi che adottano tutte quelle che sono delle tecnologie che moderne, quindi che esemplificano questa particolare agilità per, diciamo, aiutare noi, aiutare, diciamo, queste aziende qua, queste organizzazioni a contentare i propri clienti, ok? Quindi, diciamo, questa idea, questa sorta di, questa, diciamo, è la definizione di cloud native che è trovata nel manifesto della Cloud Computing Foundation, però, diciamo, questo è stato uno dei concetti, diciamo, alla base di quello che è stato poi il lavoro che il team di Microsoft, di Dottonet, sostanzialmente, ha abbracciato e spostato negli ultimi anni per arrivare a portare alla luce la release di Dottonet 5, sostanzialmente. Quindi sono tutta una serie di concetti, di parole di linee guida che hanno portato gradualmente alla versione del framework che abbiamo oggi, no? Questo perché, appunto, l'idea che le applicazioni cloud native hanno una sorta di base comune, una serie di principi fondamentali che possono essere seguiti in maniera più o meno rigida che possono portare alla creazione di software che sta, appunto, che è pronto per quest'era, diciamo. Quindi la 12 Factor Up è questa sorta di manifesto che è indipendente dal vendere, quindi abbastanza agnostico, ma che si è seguito e che, appunto, come anche Microsoft sta facendo, viene seguito per realizzare workload che sono pensate, appunto, per stare on cloud, on the edge o anche su on-premise, sostanzialmente, permette di realizzare dei software che è comunque gestibile, manutenibile e evolvibile all'interno del tempo. Quindi adottando tutti quelli che prima abbiamo definito come problemi possono diventare, invece, tutta una serie di opportunità che ci permettono di rendere sempre migliore i nostri servizi, il software che scriviamo e, diciamo, quindi, appunto, magari anche il nostro prodotto. Perché no? Quindi punti fondamentali possono essere, appunto, l'idea della, come diciamo prima, della, sono entrato nella call precedente parlando di diversioning. Sicuramente il modo in cui viene gestita la code base è un fattore importante, piuttosto che la parte di osservabilità, piuttosto che la parte di come gestisco, magari, la concorrenza o la configurazione. Tutte queste sono delle funzionalità core di ogni applicazione, diciamo, cloud, sostanzialmente, che, diciamo, da cui non si può prescindere. Perché, ovviamente, appena viene a mancare uno di questi, probabilmente avranno problemi, diciamo, più avanti. Quindi, .NET e .NET 5, in questo caso, perché ci stiamo focalizzando direttamente sulla versione di .NET 5, è ormai diventata la piattaforma per sviluppare qualsiasi tipo di workload, no? E in questo qualsiasi tipo di workload, ovviamente, ricadono anche e si ritorna in quella che era la convergenza che vi dicevo prima. Quindi, anche, diciamo, magari del low-code application platform, come possono essere appunto quella delle power-ups. Però, qua, magari, abbiamo un'esemplificazione di quelli che sono i workload più tradizionali, però, ovviamente, come dire, una slide non può parlare di tutto. L'idea è che, comunque, abbiamo, cioè, il fatto di adottare un modello di, diciamo, di sviluppo che può essere considerato poco tradizionale, non ci preclude comunque di sfruttare tutte le potenzialità di quello che lo sviluppo custom, di quelle che sono le innovazioni, diciamo, della piattaforma .NET, in questo caso. Quindi, .NET 5 è stato rilasciato, come sapete, ha avuto un sacco di miglioramenti che sono appunto dovuti a tutta questa, l'adozione di questo mindset, molto pensato, molto API driven, è molto pensata la scalabilità, le performance, soprattutto, che permette, per esempio, di avere un supporto nativo, quando è stato annunciato, di avere un supporto sia per quanto riguarda gli app service, sia per quanto riguarda le Azure Functions, che sono due dei meccanismi con cui è possibile distribuire on Azure quelli che sono i custom connettori delle Power Apps, no? Quindi, di fatto, noi possiamo utilizzare questo linguaggio, questa versione del framework, con tutte queste migliorie, di fatto, indirettamente all'interno delle nostre Power Apps, no? Perché tutti questi web e investimenti, questi investimenti web, questi investimenti cloud, ci permettono appunto di mantenere anche, diciamo, come costo generale di quello che può essere un'implementazione di questo tipo molto, molto bassa, in base, appunto, comunque ritagliato nelle nostre esigenze, sostanzialmente. Questa slide avrete vista un centinaio di volte, non so quanti di voi, anche perché è difficile vederlo, proiettando, sono, diciamo, al corrente del motivo per cui, diciamo, abbiamo dotnet 5 piuttosto che dotnet 4, l'idea comunque è sempre la stessa, l'idea di cercare di dare una continuità a quella che potrebbe essere una nomenclatura coerente che non cresce confusione. Quindi, diciamo, il 4 era già preso dotnet framework, quindi l'hanno schippato per evitare, appunto, confusione con questo, e anche l'idea di core è stata comunque rimossa per dare quell'enfasi, quindi per rimarcare quel concetto che di fatto questa è l'implementazione principale di dotnet, non c'è più nulla di core sostanzialmente. Ovviamente, per quanto riguarda invece AspNet è rimasto, invece, per continuare a non avere confusione con quella che era la versione precedente che era ovviamente AspNet NBC. Con questa versione arrivano nuovi TFM, però l'idea è che tutto il resto, tutto ciò che abbiamo nel passato, quindi, ripeto, tutti gli investimenti che magari abbiamo fatto per imparare, per, diciamo, barcaminarci su queste che erano le nuove tecnologie possono rimanere là, ovviamente con gli accorgimenti che è del caso, quindi magari se io voglio sviluppare un nuovo workload, giustamente posso partire direttamente dall'ultimo target primo moniker, quindi per portarmi, è stato il nuovo, quindi non c'è, come dire, posso provare a beneficiare di quante più funzionalità e innovazioni possibili, mentre invece se abbiamo la necessità di condividere codice con magari qualcosa che è un po' più, come dire, passatemi il termine legacy, possiamo comunque utilizzare quelli che sono i TFM di .NET Standard 2.0 per mantenere appunto questo livello di compatibilità. Le performance, come vi dicevo prima, sono veramente incredibili, diciamo, abbiamo il team ha lavorato e se avete seguito GitHub, perché ormai, come sapete, tutti questi sviluppi sono, come dire, pubblici, li troviamo su GitHub, possiamo praticamente quasi fare, è come se facessimo parte di questo team, del team esteso che lavora, che lavora ai vari prodotti, possiamo vedere appunto come magari questo focus sulle performance, sull'idea che quando siamo sul cloud, diciamo, un'inefficienza ci costa cara, ha fatto arrivare, diciamo, .NET nel campo, per esempio, della serializzazione, essere migliore anche dalla versione 3.1 che era già, come dire, molto performante o in alcuni casi, per esempio nel caso di GRPC, arrivare anche a superare quelle che sono le performance di Ghost, Plus Plus e Java che invece sono un po' dei linguaggi che o sono, come dire, in maniera rinomata molto, molto performanti o sono addirittura nativi per quella determinata determinata tecnologia. Quindi, l'idea è che con i custom connector di cui adesso arriviamo a parlare, abbiamo a nostra disposizione diciamo, l'unione di questi due mondi. Quindi l'idea è che tutti i workload possibili, tutta la flessibilità, diciamo, di .NET possibile e immaginabile è di fatto a nostra disposizione quando utilizziamo i custom connector. Perché un custom connector, come appunto possiamo vedere in questa slide, non è altro che un componente che permette di soddisfare il bisogno di, diciamo, rendere possibile la comunicazione con un sistema, diciamo, che può essere magari un premise o un cloud, che già da oggi, già in questo momento, non è supportato da uno dei connettori che sono già disponibili all'interno del marketplace. Quindi noi possiamo creare dei connettori custom che di fatto non sono altro che possiamo vederli come degli API sostanzialmente, quindi anche qua ritorno al concetto di modello API driven e possiamo appunto crearli, condividerli con la community o all'interno dei nostri collaboratori per appunto alleviare quelle che possono essere diciamo i pain points di persone che hanno necessità come le nostre. Ok? Tutto questo perché appunto si cerca di portare anche all'interno della, diciamo, di quello che può essere lo sviluppo di quelle che possono essere organizzazioni grandi, le mentalità open di collaborazione diciamo portare dentro queste modalità open di collaborazione tra sviluppatori sostanzialmente perché come tutti sappiamo creare questo tipo di sinergie aiuta sempre e comunque. Nello specifico un life cycle qua il ciclo di vita di un connettore custom come vi dicevo prima di fatto questi sono dei wrapper che stanno attorno diciamo a una resta API oppure nel caso di logic apps anche di sub-API che possono essere utilizzate quindi che possono permettere dei logic apps power automate o power apps di comunicare con questi servizi rest. Quindi di fatto il connector life cycle a parte l'utilizzo a parte quello che possono essere le funzionalità di sharing e di certificazione è uguale a quello di un API normale cioè io di fatto posso utilizzare posso sfruttare gli stessi meccanismi le stesse tecnologie magari di application life cycle management quindi magari le pipeline per la release automatica la scansione del codice per esempio con sonar cube quindi per implementare anche qualche concetto di static code analysis quelle che possono essere il versioning tutte veramente è come se andassimo in un come dire in un regno separato e potessimo comunque beneficiare di tutte quelle che sono i modelli di sviluppo tradizionali a cui siamo abituati ok ovviamente queste API possono essere esposte sia al pubblico che questi wrapper quindi questi connettori possono esporre sia API pubbliche che API private ovviamente nel caso in cui stiamo provando a targetizzare API pubbliche l'idea è che possiamo sfruttare tutta quella che è l'integrazione diciamo con l'ecosistema di Microsoft Azure per andare a esporre per esempio utilizzando le Azure Function quindi sfruttando il modello serverless che ci permette di come dire per computazioni molto molto veloci molto molto leggere di avere come dire anche un billing per millisecondo diciamo e quindi avere anche quelli che possono essere dei vantaggi da un punto di vista economico delle logic apps qualora volessimo orchestrare dei workflow che fanno magari varie cose quindi che sono molto articolati su cui dobbiamo diciamo possiamo anche sfruttare quelle che sono le come dire dei connettori che magari la community ha realizzato e Microsoft ha realizzato Azure API Management quindi qualora dovessi avere un set sparso e diverso di connettori API quindi magari che creano una superficie abbastanza eterogenea di funzionalità di anche di standard di modi in cui questa API viene esposta e anche magari perché no di security di policy e di diciamo che poi dal nostro lato magari anche di raccolta di metriche dati possiamo decidere di far confluire tutto all'interno di un'istanza di Azure API Management ok che appunto come prodotto a sé stante proprio la funzionalità di permettere questo tipo di aggregazione e poi utilizzare l'API frappata da Azure API Management come appunto componente connettore all'interno della nostra power up poi ovviamente l'ultimo mod diciamo che è forse un po' più estremo un po' più come dire hardcore chiamiamolo così passatemi il termine e poi addirittura di utilizzare di decidere di ospitare tutte queste nostre API tutti questi nostri diciamo wrapper di queste resti API che andremo a utilizzare all'interno di AKS quindi di Azure Kubernetes Service quindi anche qua addirittura estremizziamo ancora di più il concetto di quelli che possono essere diciamo una pipeline di sviluppo moderna perché andiamo a impacchettare il nostro connettore ovviamente essendo anche questo un API può essere containerizzato buttato all'interno di un registry ed eseguito all'interno di un cluster fondamentalmente con tutte le configurazioni diciamo i crismi riservati a questo tipo di deployment sostanzialmente cosa diversa è quando scegliamo invece di comunicare con delle API private in questo caso ovviamente entriamo in quello che è il mondo del cioè il mondo ibrido a questo punto dobbiamo sfruttare l'on-premise data gateway l'on-premise data gateway come dice appunto il nome stesso non altro che un connettore che siede all'interno della nostra organizzazione permette a servizi cloud di comunicare per esempio con dei data source che stanno in premise quindi andando a cercare di creare questo link tra questi due anime sostanzialmente per permettere però la fruizione di dati in maniera diciamo sicura trasparente e come dire anche un po' come dire un po' più cloud native diciamo così l'on-premise data gateway è disponibile in due flavor sostanzialmente il primo è appunto l'on-premise data gateway normale mentre invece l'altro è l'on-premise data gateway personal ci sono delle limitazioni che vi invito appunto a guardare non le ho riportate nella slide all'interno della documentazione che è super aggiornata comunque come sappiamo è qualcosa che sta diventando veramente la come dire la bocca della verità per quanto riguarda certe cose è per esempio una differenza sostanziale che mi viene in mente che appunto la versione non personal data gateway può essere come dire usata condivisa tra utenti mentre invece l'altra appunto come dice il nome è personal quindi non c'è è come se fosse come dire monoutenza mettiamola così però l'idea appunto è che indipendentemente da dove la mia API la mia sorgente di dati quindi dati che voglio utilizzare all'interno della mia power app io non ho a me basta creare un API che lavrappa se sta su un premise ho il mio data gateway se sta un cloud tanto meglio magari sarà molto 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 più facile però i dati possono comunque emergere possono essere consumati così come nello stesso modo in cui possono essere consumati i dati che arrivano da un connettore first party o da un connettore certificato che ho trovato all'interno del marketplace quello che vi dicevo prima invece è la condivisione del connettore quindi che come ci siamo detti che senso ha in pura ottica di collaborazione di openness anche tra colleghi sviluppare un connettore risolvere un problema e di fatto non farne bene e felice nessun altro e ovviamente questo ragionamento non scala diciamo nel lungo termine quindi l'idea è che una funzionalità che secondo me è utilissima è appunto la possibilità di condividere un connettore quindi l'idea di dare accesso ad altri utenti a quello che possono essere queste funzionalità custom per permetterli utilizzare all'interno di altre power apps quindi l'idea è che se sono un connettore logic app questo è già disponibile agli utenti che stanno nella stessa non si sostiene di active directory ovviamente perché c'è una sorta di match anche con quella che è l'azure subscription dove queste logic apps diciamo sono state distribuite mentre invece per i custom connector che diciamo non sono a cui altri utenti non possono diciamo non possono non possono utilizzare possiamo fare uno sharing diciamo diretto ok questo ci permette appunto di continuare anche senza utilizzare il processo di certificazione che vediamo adesso brevemente di come dire condividere quello che è stato il mio effort con persone magari o dentro la mia organizzazione comunque vicino alla mia organizzazione la certificazione è come dire lo step come dire successivo alla condivisione perché di fatto permette ci permette di ampliare come dire in maniera incredibile ed estrema quello che è il reach quindi la portata di utilizzo di quello che è stato il nostro connettore quindi qua dobbiamo andare per poter certificare un connettore potete cliccare su quel link la vi porta una pagina un form Microsoft che dovete come dire è filare tutte le sue parti una persona poi di Microsoft entrerà in contatto con voi e i benefici diciamo sono innumerevoli innanzitutto è gratis quindi non c'è un costo per certificare un connettore però l'idea è che quando un connettore va in quello che è super il processo di certificazione si crea questa sorta di partnership con Microsoft stessa sostanzialmente in maniera informale un attimo la così che vi permette di avere accesso magari a quello che sono servizi di analisi del vostro connettore sponsorizzazioni in quelle che possono essere magari le spotlight dei connettori disponibili ovviamente qualora il nostro connettore magari sia un connettore che implementa anche delle logiche particolari il fatto di poter incrementare gli utenti che lo utilizzano e quindi anche avere feedback come dire da persone che non sono voi sostanzialmente di quello che è l'utilità le feature che dovreste includere e così via quindi se avete un connettore se vi è capita di avere un connettore di sviluppare un connettore custom vi invito come dire a valutare il concetto di certificazione perché ne beneficiate voi sostanzialmente ma ne beneficia anche poi tutto l'ecosistema delle power apps diciamo di questa della power platform perché appunto andate ad estendere quelle che sono le funzionalità out of the box che per qualcun altro diventeranno out of the box sostanzialmente ok vediamo un attimo una demo adesso vi faccio vedere come possiamo effettivamente realizzare un connettore allora è un connettore molto semplice ho voluto però però che mi permette di farvi vedere tutto quindi qua cosa abbiamo abbiamo un Azure Function sostanzialmente quindi questo sarà un API molto molto semplice che permette di trovare dovevo trovare un esempio che non era già coperto da quello che erano i numerevoli connettori disponibili nel marketplace che però permette di dare il tasso di cambio sostanzialmente tra due valute possono essere due valute virtuali due valute normali sostanzialmente però dati i ticker quindi dati i codici mi dice quanto è il cambio tra una valuta e l'altra sostanzialmente qua vedete la Azure Function è molto molto semplice sono circa tre righe noi ci aspettiamo semplicemente tre parametri in input che sono tutti e tre obbligatori quindi il primo ticker il secondo ticker è la quantità che voglio convertire e di fatto questa funzione come dicevamo prima non fa altro che vrappare sfruttando appunto quello che è anche il suo meccanismo di autenticazione l'ha chiamato un servizio che è un servizio esterno in questo caso è un servizio pubblico quindi non c'è nessun data gateway sostanzialmente la risposta viene deserializzata e restituiamo diciamo all'utilizzatore di questa function il primo risultato della quote quindi il primo dato di cambio utile per questa funzionalità ok allora come potete vedere questa function poi può essere pubblicata su Azure come vi farò vedere a breve può essere utilizzata ovviamente anche in debug quindi se io lancio il debug questa funzionalità dando tempo a studio di far partire anche il simulatore dell'Azure Storage perché per qualche motivo si è spento possiamo vedere appunto qual è che tipologia di payload questa Azure Function restituisce sta partendo adesso dovrebbe dirmi diciamo ecco questo è l'url che devo invocare e come vi dicevo prima abbiamo che è ticker one possiamo dire euro usd quindi proviamo a convertire questi due ticker qua come vedete mi da che è un euro in dollari equivale a 1.21 sostanzialmente con questo timestamp come potete vedere molto semplice è un json che è facilmente interpretabile però che viene appunto drappato da questa nostra Azure Function perché perché magari appunto c'è la logica di API key eccetera eccetera ok quindi una volta che io ho effettivamente testato quindi come funziona io ho testato il mio connettore sono sicuro e questo è diciamo il miglior codice che posso scrivere sostanzialmente posso andare posso decidere di pubblicare questo connettore all'interno di Azure quindi ho come potete vedere ho creato utilizzando la mia sottoscrizione ho creato una una trial sostanzialmente ho pubblicato questo connettore come un Azure Function perché ci siamo detti che prima era un Azure Function quindi vedete qua ci sono state delle chiamate questo è l'url dell'Azure Function e qua possiamo trovare tutte le sue configurazioni quindi fin qua di fatto non è che abbiamo come dire sfruttato chissà non ci siamo distaccati da quello che era come dire un'esperienza magari di sviluppo tradizionale moderna di quello che può essere un Azure Function non c'è tanto di avrei potuto utilizzare una pipeline poi ho fatto un right click publish per semplicità però i concetti rimangono validi quindi se conosciamo questa parte qua siamo a cavallo sostanzialmente cosa ho fatto successivamente successivamente perché ho deciso dai posso avere tante Azure Function voglio decidere di avere un layer diciamo che unifica questi questi end point sento queste diverse funzionalità e quindi ho creato un'istanza del mio API management questa istanza di API management appunto mi mette a disposizione tutte le API e come potete vedere io posso aggiungere un API anche tramite una function app quindi sfruttando l'integrazione del portale io posso cliccare qua posso fare browse come potete vedere mi fa selezionare qual è la Azure Function che io voglio aggiungere e quali sono le funzioni i metodi diciamo contenuti all'interno di questa Azure Function che voglio aggiungere all'interno delle amministanze di API management io l'ho già aggiunta come potete vedere la ritrovo qua una volta che sono qua il concetto è che questo metodo qua questa operazione qua può essere personalizzata e customizzata come una normale come qualsiasi servizio esposto all'interno di API management quindi io posso impostare delle inbound processing rule per esempio per validare applicare che ne sono meccanismi di trottling piuttosto che un mtls qualsiasi cosa idem delle regole di outbound o i miei settings perché così posso decidere magari di disattivare quella che può essere la subscription key oppure customizzare quella che è la descrizione della mia API ok quindi fatto questo diciamo ci siamo scusate quindi fatto questo la mia API è esposta diciamo all'interno di Azure API management quello che posso fare però per unire creare questa sorta di connettore tra i due mondi e andare qua e decidere di fare export quando faccio export potete vedere che qua oltre a un'esportazione tramite YAML JSON OpenAPI 3.0 oppure OpenAPI 2 VADL abbiamo questo appunto abbiamo questa opzione Power Apps e Power Automate che permette di creare un custom connector direttamente dal portale quindi se io clicco qua come potete vedere vedo il mio environment Power Apps su cui pubblicare e posso decidere di dargli un display name ok questa è una funzione di export che una volta lanciata l'ho già lanciata e vi farò vedere il risultato mi permette di esportare questo connettore e di ritrovarmelo poi all'interno del mio portale sotto la voce Custom Connectors eccolo qua come potete vedere il nome il connector name è quello che abbiamo avuto nella quello che avevamo nella fase di esportazione la description la stessa description che avevamo che abbiamo all'interno di Azure API Management però la cosa interessante è che se appunto io faccio edit posso andare in tutte quelle che sono le fasi diciamo la personalizzazione del mio connettore quindi posso dargli un'immagine un background color posso dargli una description eccetera eccetera ma la cosa interessante è che io posso andare nella parte di definition nella parte di test per poter effettivamente provare la mia questo connettore custom una cosa che non si può fare dal Azure API Management che è un po' macchinosa da fare nella function è che io posso abilitare questa voce Swagger Editor per andare a vedere effettivamente diciamo il codice Swagger quindi il manifesto Swagger che sta dietro a questa API allora una cosa interessante è che dato che questa function funzionava con i parametri in query string così per come era stata sviluppata per come era stata pubblicata diciamo questi i parametri che vedete qua quindi amount ticker1 e ticker2 non vengono automaticamente diciamo non ne viene fatto automaticamente il discovery quindi è proprio necessario fare questa funzionalità questa parte di modifica per andare a arricchire il mio manifesto con questi parametri parametro di in che sta in query nome amount di tipo integer e questo è vi ricordo Swagger2 quindi state attenti quando guardate nella documentazione perché lo schema nella versione 3 è un po' cambiato quindi diciamo non lo digerisce tanto bene quindi dovete un po' stare ai suoi comodi da questo punto di vista potete appunto specificare query il ticker1 e il ticker2 anche qua e una volta fatto questo potete appunto disattivare magari quello che è lo suo gear editor io non ho fatto aggiornamenti quindi non mi serve aggiornare il connettore creiamo una connection a quella che è appunto questo connettore custom che mi è appena arrivato quindi attivato quindi qua potrei averne più di uno in base magari a quelle che possono essere le connessioni che vogliamo utilizzare ma l'idea è che se qua rimetto di nuovo e rifillo i parametri che ho utilizzato prima posso fare test e di fatto con una risposta 200 vedo esattamente lo stesso output che avevo prima quindi come potete vedere sviluppare un custom connector e aggiungerlo al portale non è un'impresa appunto complicata e sicuramente poter utilizzare tutti i benefici e tutta la flessibilità dei workload che possono di dotnet 5 perché ovviamente può essere un esempio molto 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 semplicistico non è più appunto rest che verrà paura il 3p e rest poi l'idea è appunto che una volta che io posso sfruttare questi modelli di deployment e di sviluppo come dire più custom più tradizionali se vogliamo meno low code più code chiamiamoli così veramente le potenzialità di strumenti come le power apps sono come dire vengono si estendono diciamo alla massima potenza sostanzialmente ok questa era diciamo la fine della mia sessione penso di aver corso e abbiamo anche un po' più di tempo rispetto agli altri magari per gestire un po' di domande e niente quindi questo è il QR code della survey però appunto lascio su questa slide Federico magari se hai se ci sono state domande possiamo possiamo rispondere scusate ero muto ho parlato col microfono spento capita ormai ormai è la moda del momento esatto esatto stavo dicendo no non vedo alcuna domanda sul Q&A panel invito tutti i partecipanti se ci sono domande mi raccomando ponetele ponetele adesso intanto volevo volevo farne una io visto che non sono diciamo io mi occupo più che altro della parte Power BI nella Power Platform quindi so poco o niente di Power App e mi chiedevo tu hai fatto vedere come è possibile integrare un proprio connettore nel caso in cui non trovo un connettore che mi interessa che soddisfi requisiti tra quelli standard nel momento in cui io devo lavorare appunto con un connettore custom è necessario che sia certificato ho visto che tu l'hai implementato senza certificarlo quali sarebbero i vantaggi gli svantaggi cosa considerare quando intraprendo poi il processo di certificazione ma come dicevo prima diciamo la certificazione penso è più che altro diciamo a seconda del connettore può essere uno step anche opzionale mettiamola così perché può essere veramente un connettore che soddisfa le mie esigenze magari non è proprio un qualcosa che magari il mercato richiede però per esempio dovendo io magari il software house sostanzialmente che faccio magari il mio software che ha un che ne so la butto lì un gestionale sostanzialmente che voglio magari dare una una funzionalità come dire innovativa ai miei clienti io posso decidere di sviluppare un connettore che prima è interno e portarlo in certificazione questo cosa permette permette di fatto di estendere uno il mio portfolio di prodotti perché io potrei mettere anche delle logiche di come dire di billing all'interno dell'utilizzo della mia API quindi potrei monetizzare il mio connettore ma anche perché appunto come dicevo prima certificarlo porta come dire mi porta a bordo quello che può essere il supporto il supporto di Microsoft anche nella revisione tecnica del mio connettore quindi diciamo io posso avere un supporto in quella che magari la realizzazione il miglioramento da un punto di vista tecnologico implementativo di quello con un connettore che magari è nato per un'esigenza personale quindi come dire sappiamo tutti che i connettori che magari Microsoft mette a disposizione sono robusti solidi potrei avere lo stesso tipo di considerazioni e magari anche di reach a livello di utenti perché siamo nel marketplace appunto che è una portata globale per un mio connettore nato diciamo da un'esigenza prettamente personale mettiamola così certo attendiamo ancora qualche secondo per vedere se arrivano delle domande dell'ultimo minuto così c'è la survey bella in vista esatto ricordo a tutti mi raccomando per questa per tutte le sessioni che avete visto e per quelle che vedrete tra poco survey ci serve serve a noi serve agli speaker ci sono domande non siete timidi va bene dai tanto i miei contatti saranno poi sono in una slide diciamo nel deck quindi potete trovare guarda ne è arrivata una se posso visto che siamo qui te la leggo qualche esempio pratico di connettore di connettore custom che hai implementato su clienti ovviamente immagino nel limite di quello che puoi dire perché sei coperto immagino da NDA allora diciamo sì per esempio c'è stato un connettore che voleva andare a rimpiazzare un po' l'idea di il timbro del cartellino così è stata una più sì come dire che non è andata in produzione perché appunto era abbastanza disruptive come idea però per esempio quello è un connettore che si interfacciava con quello che era il sistema di beging del cliente per esempio molto interessante quindi passavi direttamente tramite power up e andavi a scrivere all'interno del sistema di beging molto interessante diamo ancora qualche secondo per vedere se ci sono altre domande bene non sembra che ci siano altre domande quindi io ti ringrazio Giancarlo qui avete sempre nella chat il feedback per valutare la sua ottima sessione e niente grazie mille è stato un piacere averti e speriamo di vederci ad un prossimo evento magari speriamo in persona va bene va bene grazie mille buon proseguimento a tutti ciao ciao grazie